Mister, purtroppo, insomma, speravamo nella terza vittoria consecutiva dell'Avellino, o almeno un risultato utile, purtroppo arriva la sconfitta contro un Picerno che comunque dimostra di non essere quinto per caso. Peccato però perché il primo tempo, almeno la prima mezz'ora, è stata davvero ottima da parte dell'Avellino. Sì, è normale che siamo qui a commentare un 2-0, dove poi faccio fatica anche a trovare delle giustificazioni, però la verità è che abbiamo fatto un'ottima mezz'ora, dove, insomma, da un momento all'altro potevamo andare in vantaggio con tante situazioni, tanti cross, alcune occasioni importantissime, una su tutte quella del colpo di testa di Trotta, ma eravamo pienamente in gara, naturalmente oggi è stata la prima giornata comunque di caldo, era la terza partita di una settimana, nel momento in cui abbiamo dovuto un attimino rifiatare, ci siamo un po' disuniti, però il primo tempo è andato senza grandi problemi, nel senso che non abbiamo rischiato assolutamente nulla. Nella ripresa è stata un po' più equilibrata, però sinceramente il Picerno controllava e non stava creando particolari situazioni. Non so quanti cross abbiamo fatto, in una grande ripartenza di Sottini abbiamo creato i presupposti per una grandissima occasione, da lì c'è stata una ripartenza del Picerno, sono andati in vantaggio e dopo è normale che diventa tutto più difficile, loro poi si sono messi a cinque, hanno chiuso un po' tutti i varchi, noi abbiamo continuato comunque a cercare attraverso gli esterni, le sovrapposizioni, i cross, di accorciare almeno le distanze, purtroppo non ci siamo riusciti e stiamo, ripeto, qui a commentare ancora una volta una sconfitta con squadre che vengono qua, si difendono, entrano due volte in area di rigore e portano a casa i tre punti. Il proposito dei tanti cross in area di rigore, da primo e secondo tempo, l'abbiamo visto arrabbiata tante volte sulla mancanza dell'attacco sul primo palo, mancava un po' di cattiveria forse in area di rigore oggi, nonostante tanti uomini. Naturalmente sui cross bisogna coprire bene l'aria, quindi naturalmente attaccare con un uomo il primo palo, attaccare la zona di schetto, la zona secondo palo, quindi abbiamo gli uomini per poterlo fare, col 4-2-3 abbiamo naturalmente le due punte e la mezzala opposta che deve entrare, naturalmente nel 4-4-2 c'è le due punte e l'esterno opposto che deve entrare, quindi sono situazioni che dobbiamo essere, come hai detto tu, anche un po' più decisi a sfruttare, ripeto, i tanti cross perché in queste 4-5 ultime partite in casa, che purtroppo ci hanno visto raccogliere poco, non so quanti cross abbiamo fatto e poi diventa difficile, soprattutto quando vai sotto, riuscire a riequilibrare le gare. Viste le condizioni di Benedetti che poi ha dato spazio all'esordio stagionale di Sottini, abbiamo visto il ginocchio sinistro, ci sembra una parte interessata. Sì, ha preso un colpo, adesso sinceramente non ho avuto modo di parlare con lo staff medico, ha sentito un fastidio zona laterale del ginocchio, quindi poi naturalmente saranno fatte tutti gli accertamenti del caso per valutare un po' l'entità dell'infortunio. Comissario, immaginiamo che anche lei si aspettava quello step, ne parliamo sempre alla vigilia, cosa dà questa sconfitta, un passo indietro magari rispetto alle due vittorie consecutive o insomma l'Avellino di quest'anno purtroppo è questo? No, no, ti ripeto, dobbiamo essere realisti, sapere che siamo un gruppo che riesce in alcuni momenti a trarre il massimo, ad uscire anche da situazioni difficili come le quattro sconfitte che poi ci hanno visto vincere due gare consecutive e poi ti ripeto, ci sono in alcune gare delle situazioni, degli episodi dove li vai a pagare troppo a caro prezzo, ti ripeto, una ripartenza in una situazione dove veramente eravamo lì lì per creare una situazione di gol, vuol dire che questa è un'annata particolare, dobbiamo essere bravi a valutarle con lucidità, con obiettività, senza farci condizionare troppo dal risultato in sé per sé, naturalmente io vorrei sempre vincere, non è così, ripartiamo, sabato abbiamo un'altra gara tosta e da domani iniziamo a prepararci. Con l'ultima mister, lei si è già espresso su Raffaele Russo sulla corsia di destra, non l'abbiamo visto nel primo tempo eccezionale a sinistra, poi è chiaro che ovviamente Di Gaudio che sta bene deve trovare spazio, diventa difficile, tra virgolette, gestire questa concorrenza a sinistra? Sì, è normale che Raffaele comunque anche a destra è bravo, perché ti ripeto, tante volte in allenamento lo provo e quindi naturalmente ha delle soluzioni diverse ma diventa comunque efficace allo stesso modo e quindi volevo comunque mettere un giocatore fresco in avanti, quindi Antonio che comunque è recuperato da un po' di tempo, sta facendo bene, anche mercoledì aveva fatto un'ottima gara, quindi ho pensato di metterlo subito e di spostare Raffaele a destra che è stato un po' meno continuo, ma ho dei giocatori davanti che sono tanti e quindi devo anche essere in grado di sfruttarli nel miglior modo possibile in base a quello che vedo. Scelta tecnica, Maisto? No, no, ho avuto un piccolo contrattempo nella rifinitura, quindi purtroppo non era disponibile per la gara. Grazie.